benvenuti e mi presento sono analisa romeo io mi occupo di marketing e comunicazione digitale per destinazioni in uno specifico ma eh anche per aziende private nel settore del food and wine ehm inizio questa diciamo questa quest'intervento però facendovi una domanda mi piacciono i film? Di solito appunto diciamo in un genere nell'altro piacciono un po' a tutti tranquilli siete nel panel giusto parliamo di cibo di innovazione però ehm io quando ero adolescente ero appassionata di film di fantascienza quando ho iniziato a preparare l'intervento insomma e il panel per capire qual era la direzione che avremmo potuto prendere in questa discussione mi sono chiesta come venivano rappresentati nei film di fantascienza diciamo della mia adolescenza come veniva rappresentato il cibo no? Dei film che parlano di futuro di di galassie di di alieni mi sono chiesta come veniva rappresentato il cibo ok questo è Alien siamo nello spazio eh lontanissimi dalla terra ma comunque si beve birra e si mangiano zuppe e questo è un film telefilm iconico insomma della nostra gioventù no? Star Trek The Next Generation addirittura questo personaggio Worf che è un personaggio immaginario mangia un cosciotto di pollo quindi totalmente vicino a quello che noi abbiamo oggi e andiamo avanti ritorno al futuro due che ha fatto grandi previsioni no? Vedete in questa immagine i due commensali hanno gli oculus quindi considerate come ha visto lontano però alla fine sul tavolo c'è la pizza addirittura i supereroi mangiano patatine e hamburger come noi e allora mi sono chiesta qualsiasi cosa succede nel nostro immaginario quindi noi possiamo immaginare qualsiasi cosa qualsiasi cosa succede nel mondo alla fine per noi il cibo è sempre quello eh qua avete un disegno di un alieno che mangia la pizza cioè è sempre buono gustoso comunque non voglio dire necessariamente nutriente però come quello che noi vediamo realmente vediamo tutti i giorni e se nel metaverso e poi un po' la discussione un giorno potessimo assaporare il cibo però non è possibile quindi lo vediamo tutti un po' distante no? Da questo tema prima un intervento precedente il direttore delle langhe parlava appunto di mai il cibo entrerà nel metaverso ma se supponiamo entrasse e noi potessimo assaporarlo andrebbe così? Allora siamo intesi signor Reagan vedi io so che questa bistecca non esiste so che quando la infilerò in bocca Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa dopo nove anni sa che cosa ho capito l'ignoranza è un bene ebbene no l'ignoranza non è un bene e non ci possiamo permettere di essere ignoranti per una questione molto semplice perché noi dobbiamo assolutamente salvaguardare il cibo quello che ci mangiamo per salvaguardare la terra per salvaguardare di conseguenza noi stessi ma anche le generazioni future questo è un murales ehm realizzato in Spagna che sintetizza perfettamente quello che io so per diciamo quello su cui dobbiamo discutere oggi il cibo eh in mano ad un bambino che sono appunto le future generazioni e dover salvaguardare il cibo e eh e la qualità dei prodotti che noi andiamo a mangiare e se entriamo nel tema del turismo che valore ha il cibo? Ha un valore importante in particolar modo il cibo di qualità conoscete tutti questo è un paesaggio delle langhe riconosciuto come il territorio italiano come migliore destinazione enogastronomica dove diventa tale perché i prodotti di qualità che sono il vino eh la nocciola eh eh sono il tartufo sono tutti prodotti di altissima qualità che in qualche modo diventano speculari sulla qualità del del territorio quindi noi decidiamo di andare in un territorio ad assaggiare prodotti di alta qualità e il territorio è di conseguenza un territorio di alta qualità e lo stesso avviene inoltre sempre nel turismo quando il cibo diventa ambasciatore di un territorio spesso il cibo diventa ambasciatore di un territorio questo è questo un pesto genovese che è il l'ambasciatore della Liguria per cui la sua caratteristica e le sue la sua qualità ci dà l'idea di andare in un territorio di eh che ci comunica qualità e vi faccio vedere un altro simbolo quanti di voi sono stati in Basilicata? Benissimo io sono Lucana e la Basilicata diciamo da un po' di anni eh è ritornata diciamo è ritornata ha iniziato ad essere conosciuta per due motivi in particolari Matera capitale europeo della cultura oramai è diventata una delle destinazioni a livello nazionale anche internazionale più importante italiano e la seconda è questo prodotto si chiama peperone crusco per chi non lo conosce eh da il suo nome viene dal suono che si fa quando si mangia il il peperone che fa diciamo questo suono vicino al crusco e questo prodotto è un prodotto che ehm rappresenta la qualità del nostro territorio e la Basilicata è un territorio perfetto quando parliamo di aria interne territorio piccolo eh diciamo anche un po' difficile però che sta crescendo dal punto di vista anche delle produzioni e che cosa succede come possiamo aiutare le aree interne le aree i territori marginali diciamo così che sono quei territori che in questo momento come abbiamo visto anche stamattina in un'altra presentazione sono i territori che sono più cercati dai turisti come possiamo preservare la bellezza e di conseguenza la qualità e i valori di quei territori beh li conserviamo facendo delle attività di economia che danno la forza a quei territori di avere dei prodotti di qualità quindi non dobbiamo rispondere alle logiche necessariamente delle economie del turismo lo diceva sempre il direttore delle Langhe stamattina no? Quando un territorio deve essere vissuto prima di tutto per le comunità che stanno in quel territorio e quindi le comunità mangiano prodotti di qualità mangiano i loro prodotti e quindi attraverso la conservazione della della dei prodotti di qualità delle comunità sostenibili che si impegnano in questa direzione si crea economia e si crea quei prodotti che sono la conseguenza essendo di qualità sono la conseguenza di un territorio di qualità e come lo facciamo attraverso le nostre unicità le nostre la nostra autenticità l'identità no? Il peperone crusco è un po' questo in Basilicata rappresenta la nostra identità ed è quello che in qualche modo eh ho ritrovato nella lettura di questo libro non credo che più o meno tutti lo conoscete è stato un libro che ha messo in discussione un po' il tema dei borghi delle aree interne e eh una delle delle dei contributi di Letizia Bindi in un certo passaggio dice occorre iniziare a riprogettare centri urbani così da rendere quei territori produttivi e autonomi in termini economici quindi la parola ritorna grazie alle loro attività agricole pastorali e artigianali secondo eco ecologiche recuperando saperi e pratiche di custodia e al tempo stesso innovando attraverso percorsi realmente partecipativi. Arriva la parola innovazione. In questo caso è utilizzata come innovazione sociale, innovazione economica, innovazione culturale e io mi permetto di aggiungere che però questi risultati possono avvenire oggi anche diciamo in maniera più accelerata attraverso l'innovazione tecnologica. Quindi parleremo di blockchain, di NFT, di metaverso e questi eh questa innovazione e questa tecnologia sono lo strumento attraverso cui possiamo avere la qualità dei prodotti e quindi di conseguenza la qualità dei territori e quindi dei turisti che di conseguenza cercano territori di qualità con prodotti di qualità. Facciamo insomma apriamo questa discussione con i miei ospiti che ringrazio di aver accettato eh l'invito a partecipare eh William Nonnis che sarà eh a distanza eh è diciamo un esperto di blockchain ringrazio per chi ha sostituito diciamo all'ultimo minuto eh vitale che è il CEO di 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 Foodchain che ha avuto eh diciamo un problema e non è potuto essere con noi e poi parleremo del distretto eh degli agrumi di Sicilia e chiuderemo con lo chef Campoli ehm diciamo cercheremo di tirare un po' le somme di questi di dell'innovazione del food e delle aree marginali. Lascio la parola a William. Ci senti William? Sì sì mi sento ti sento. Buongiorno. Buongiorno allora rispondendo più che altro a l'introduzione eh appena diciamo rappresentata da parte tua dico sì sicuramente il metaverso sta rivoluzionando e rivoluzionerà in continua diciamo eh forma positiva questo mondo. Questo mondo perché fondamentalmente il metaverso non è una tecnologia ma è sostanzialmente una cultura. Una cultura però che va a tra virgolette eh compresa governata e quindi di conseguenza serve assolutamente la formazione. Per fare questo eh per far funzionare diciamo il metaverso in maniera corretta ci sono delle tecnologie cosiddette abilitanti che comunque permettono questa eh questa appunto tecnologia scusate il gioco di parole di poter funzionare. Cosa vuol dire questo? Una di queste tecnologie sicuramente è la eh tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain che cos'è? Sostanzialmente non è altro che un registro pubblico condiviso delle transazioni liberamente accessibili a differenza di tante altre blockchain che fondamentalmente eh si definiscono passatemi il termine a livello di marketing blockchain ma non sono marketing ma non è non sono blockchain scusatemi in quanto le uniche blockchain veramente si contano eh sulle sul palmo delle ditte sul palmo delle mani scusatemi sono sono principalmente bitcoin, ethereum eh quadrans appunto del del collega della collega amico Marco Vitale e a Trongate. Queste quattro blockchain hanno le corrispettive caratteristiche di cosiddette pubbliche. Pubbliche perché sostanzialmente non essendo un essendoci un'entità centrale permette appunto alla di governare o manipolare le singole informazioni le blockchain pubbliche pubbliche permettono di responsabilizzare il cittadino cioè ogni azione che noi andremo a fare all'interno di un ecosistema di una blockchain di quello che volete voi automaticamente ci responsabilizzano in questo su questo tema di cui eh diciamo tratteremo questo pomeriggio è per quanto riguarda il food quindi parliamo di filiere di filiere capire realmente se la provenienza di determinati prodotti è data da che cosa? Da una credibilità di informazioni quindi non inserite manualmente dal dall'uomo perché ricordiamo che la tecnologia blockchain è fatta per eh disintermediare ma allo stesso tempo evitare la manipolazione delle informazioni da parte dell'uomo quindi cosa ci cosa serve per effettuare logicamente una filiera una supply chain chiamatela un po' come volete diciamo serve sostanzialmente dei dispositivi dei cosiddetti IOT sensoristiche eccetera eccetera che permettono l'inserimento automatico del prodotto questi dispositivi nella filiera per esempio agroalimentare sicuramente vanno a intercettare che cosa? La bontà del prodotto la bontà perché fondamentalmente la bontà viene data dalle condizioni meteo da quanta acqua riceve eh quel tipo di campo eccetera eccetera quindi tutte informazioni che il eh dispositivo IoT in questo caso infrarossi eh può eh inserire in maniera automatica per tra virgolette tracciare quella filiera di prodotto sicuramente la blockchain ad oggi ha un ruolo fondamentale anche nella nel metaverso nel metaverso che diciamo secondo il mio punto di vista quello che gira ad oggi per quanto riguarda il metaverso ancora non non è definito anche perché fondamentalmente eh dobbiamo partire sempre da un presupposto che ancora ad oggi si stanno applicando i vecchi concetti di ehm diciamo centralizzazione dell'informazione anche al metaverso come è successo agli inizi per la blockchain cosa vuol dire questo che il vero metaverso sostanzialmente non memorizza nessun tipo di informazione degli utenti delle azioni che fanno ma semplicemente esegue sostanzialmente attraverso la tecnologia blockchain la transazione di che cosa? Di acquisti di oggetti per esempio se all'interno di un metaverso eh l'avatar di William cosa fa? Va ad acquistare un orologio delle scarpe Nike perché ora ci sono dei grossi investimenti che da parte di questi stakeholder cosa succede? Si memorizzerà sostanzialmente l'acquisto di quel prodotto di quel servizio ma non quello che l'utente svolge all'interno del metaverso ecco perché da circa due barra tre anni all'incirca si è stato creato il metaverso standard metaverso standard forum cosa vuol dire? È sostanzialmente tutti i grossi player Google, Amazon, Twitter, Facebook, quelli che volete voi dove praticamente stanno discutendo di che cosa? Di come applicare il vero protocollo del metaverso perché nei primi diciamo Oculus che Facebook ha durante la pandemia ha iniziato a vendere alla portata di tutti alla cifra di due barra trecento dollari cosa succedeva all'interno di questi Oculus? Succedeva praticamente che attraverso dei protocolli presenti nel software dell'Oculus andavano a intercettare i dati biometrici di ognuno di noi quindi tenendosi in pancia tutte le informazioni e questo sostanzialmente è venuto alla luce di tutti dicendo ma com'è possibile il metaverso è tra virgolette per è è nato tra virgolette per gestire al meglio a noi noi esseri umani le informazioni attraverso l'utilizzo della blockchain e oggi ci troviamo nuovamente un player in quel caso quel caso di Facebook che vuole tra virgolette acquisire le nostre informazioni tra le altre dati biometrici parliamo noi stiamo parlando di dati diciamo normali quindi cosa serve questo questo cosa è servito? Sta servendo questo standard sta servendo sostanzialmente ad applicare il vero protocollo del metaverso che si chiama il VRO questo VRO praticamente cosa permette? Permette che le informazioni generate dai singoli utenti all'interno di un metaverso o più metaversi vengano gestiti in maniera consapevole dal singolo individuo attraverso appunto l'utilizzo della blockchain ecco perché la blockchain paradossalmente come dico sempre io non è la panacea a tutti i mali ma per molte molte aree molti settori sicuramente va a risolvere determinate problematiche una di queste l'abbiamo citata prima è il settore della supply chain un altro di queste sicuramente sono appunto il metaverso gli NFT eccetera eccetera tutto questo cosa comporta? Comporta che serve che l'utenza finale che vada a operare all'interno di questo ecosistema vada a formarsi in maniera corretta e questo diciamo che è il grosso eh diciamo tallone d'achille in maniera negativa che ci ritroviamo ad oggi perché comunque c'è una grossa problematica di alfabetizzazione digitale oggi si sente parlare tantissimo di metaverso di intelligenza artificiale di di tante tecnologie tra l'altro ricordiamoci che la tecnologia blockchain non è altro che un insieme di tecnologie preesistenti reingenerizzate con con gli attuali sistemi diciamo a impatto sociale perché fondamentalmente le tecnologie innovative di questi ultimi quindici barra vent'anni sono tecnologie sociali non sono più tecnologie in senso lato tecnologie sociali perché impattano sostanzialmente sull'essere umano e l'essere umano se non non ha la governance come la definisco io di queste tecnologie diventa difficile anche poi capire l'azione che sta facendo e tra virgolette ad oggi dal circa il duemila e otto barra duemila e nove la tecnologia sostanzialmente vedasi i social network eh magari chi è più esperto in materia dei social mi confermerà la stiamo sostanzialmente subendo perché generiamo informazioni a costo zero per i grossi player che monetizzano quello che noi tra virgolette andiamo a generare ecco perché il web tre ora ci ricolleghiamo al web tre serve a monetizzare quello che noi andiamo a generare ma con una consapevolezza cioè noi dobbiamo essere padroni di queste informazioni e capire dove stiamo andando e come governeremo queste informazioni altrimenti non ha neanche senso chiamare ad oggi il famoso web tre punto zero e il web tre punto zero è la centralità dell'uomo che governa le singole informazioni ora spero di essere stato un po' esaustivo magari mi sono dilogato un po' troppo però almeno ho dato un diciamo no no grazie sei stato gentilissimo eh diciamo che abbiamo parlato tanto diciamo dal punto di vista di della tecnologia eh il bello è capire come questo viene sperimentato e messo a terra quindi lo facciamo ora con Federica Argentati che è la presidente del distretto degli agrumi di Sicilia che hanno iniziato già una sperimentazione con l'NFT eh con la blockchain eh e che diciamo dalla parte appunto quello che dicevamo delle produzioni agroalimentari stanno anche sperimentando e spostandosi un po' sul tema del turismo quindi ci racconterà eh questo inizio prego sì ehm tanto grazie per l'invito a questa a questo evento veramente molto molto interessante che parla di futuro a me piace il futuro quindi eh ben volentieri partecipo ehm dunque molto brevemente cos'è il distretto è una libera aggregazione di imprese che vanno dalla produzione alla trasformazione passando per la commercializzazione ma anche agriturismi eh ma anche enti locali che eh si sono riuniti con l'intento di eh valorizzare gli agrumi siciliani eh sono aderiscono tutti i consorsi di tutela in Sicilia abbiamo quattro IGP e una DOP abbiamo l'arancia rossa di Sicilia IGP limone dell'Etna che è un altro IGP limone interdonato limone di Siracusa e la eh la DOP Ribera quindi nella zona dell'Agrigentino come come si può fare? Si può fare in tanti modi l'obiettivo non voglio adesso andare troppo per le lunghe gli obiettivi chiaramente sono molti ma il principale la principale mission è affermare la Sicilia come principale regione agrumetata italiana quindi con un risvolto all'interno dell'economia non indifferente è un po' quel discorso che facevi anche tu se è vero che eh in Basilicata c'è quel determinato prodotto il pesto in Liguria in Sicilia ci sono gli agrumi è indubbio che che sia così e allora tra le i vari metodi ehm mi riallaccio anche a quello che dicevano stamattina bisogna avere anche cura per il proprio territorio per poterlo valorizzare all'esterno e per valorizzare quindi devi fare tutta una serie di azioni trasversali o anche verticali sulla filiera uno di queste è un progetto che si chiama le vie della Zagara che è una proposta di sette itinerari legati al ehm alle diverse zone di produzione degli agrumi di qualità doppi GP e biologiche ehm e adesso interrompo di parlare perché vi voglio far vedere un video ehm che troviamo aspetta qui eccolo come lo facciamo partire grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Perché la scelta di utilizzare la blockchain sui prodotti sugli agrumi? Da dove nasce questa idea? Nasce dal fatto che la blockchain comunque è anche vero che noi abbiamo delle produzioni certificate IGP e DOP che quindi dovrebbero dare già abbastanza garanzie. E' altrettanto vero che non tutte le produzioni siciliane sono certificabili DOP e GP perché devono sottostare a determinati disciplinari. Per esempio per i prodotti trasformati è ancora la strada in lunga per la certificazione DOP e GP ed è anche vero che noi subiamo molto la concorrenza da parte dei paesi esteri, del Mediterraneo soprattutto e della Spagna. Quindi non sempre le cose non è detto che siano chiare, no? E quindi abbiamo tutto l'interesse a dimostrare al consumatore che intanto sono siciliani. Ma poi non solo, stiamo cercando di collegare la blockchain a, intanto questo per esempio è un progetto europeo che ci vede come unici partner dell'agroalimentare su 29 e diciamo che i principali protagonisti sono le grosse aziende del tessile che hanno tutto l'interesse a utilizzare la blockchain sia per l'affermazione del Made in Italy ma anche nell'applicazione per il riutilizzo delle materie prime. E noi replicheremo parte di questa piattaforma sul settore della filiera agrumicola perché lì le applicazioni sono infinite. Pensiamo ad un altro aspetto. Noi abbiamo un progetto che si chiama Acqua, agrumicoltura consapevole della qualità dell'uso dell'acqua. Qua abbiamo messo in campagna delle stazioni meteorologiche, utilizziamo i droni per i rilevamenti. Quindi il progetto è quello di collegare questi dati con il blockchain. E quindi nel momento in cui questo riesce, perché siamo in una fase di crescita e di esperimentale, è chiaro che l'imprenditore potrà dire, beh, io ho delle ottime arance di qualità, certificate in GP, certificate in blockchain, sono anche eticamente consapevole perché utilizzo l'acqua in maniera adeguata e quindi diventano anche strumenti di marketing, oltre che di tutela del territorio. Io voglio chiudere soltanto, ripetendo forse una cosa, tutto bellissimo, ripeto a me, tu dicevi che guardavi i film di fantascienza, a distanza eravamo insieme, perché a me proprio, se mi chiedessero dovevo andare nel passato o nel futuro, io direi decisamente nel futuro, però io parlo del comparto dell'agroalimentare, abbiamo molta strada da fare e sarebbe necessario proprio un supporto anche da parte delle istituzioni pubbliche per una formazione più capillare, oltre che la disponibilità dei reti internet efficaci anche nelle zone di campagna, perché sennò non andiamo molto tardi. Così arriviamo sui problemi interne, quando appunto i servizi sono principali, insomma arrivano prima di altre cose. Bene, allora Fabio, abbiamo un sacco di spunti su cui parlare, io presento velocemente Fabio Campoli, il CEO di Azioni Gastronomiche, poi aggiungi tu insomma qualcosa in più, perché ovviamente qua abbiamo una platea più vicina al turismo che non al tuo mondo. Di chef o cuoco? Come ti chiamo? Cuoco. Cuoco. Cuoco imprenditore. Diciamo così, sono stato chef fino al 2000, poi la mia carriera è andata tutta da un'altra parte, quindi sono un unconventional cuoco. In realtà gli spunti sono tanti perché prima del 2000 ebbi l'idea di lavorare su progettazione, consulenza, formazione, editoria, still life, quindi andare a prendere tutti quei mondi che non sono collegati al gusto istantaneo. E quindi se dovessi fare oggi un punto come consiglio di questo momento, dove pensiamo il metaverso come qualcosa di lontano dall'enogastronomia, come ho sentito anche stamattina, direi subito di no. Perché? Dico subito di no, intanto dico all'Argentati bellissimo perché un professionista ha bisogno di sentirsi sicuro di un prodotto. Quindi i prodotti eccellenti della Sicilia, della Basilicata, del Lazio, secondo me non devono temere perché un professionista, quando vende al cliente, ha bisogno di essere fiero. Cioè prende quel prodotto perché ha bisogno anche di sentire. Quindi questa concentrazione dei dati porteranno i professionisti veri ad essere sicuri del prodotto da proporre. Poi se parlo di blocchi, io metterei, farei una blockchain reale, cioè il blocco principale è il gusto. Il gusto è imprescindibile, però il gusto è buono e cattivo. Ognuno ha il suo gusto e fa target. Fin qua è una cosa molto semplice, ma il gusto sterile, fino a se stesso, se non è collegato a tutto quello che ci porta a godere del gusto, storia, territorio, incontri, cioè dobbiamo partire da là. Il piatto buono, cattivo, sterile, provate ad immaginarlo, non porta da nessuna parte. Secondo, siamo in un punto dove parliamo di metaverso. Bellissimo, mi piace l'idea del futuro, di entrare in un altro mondo. Mi piace molto, ma dobbiamo anche insegnare ai giovani a mantenere il gusto alto per le cose buone. Perché il metaverso e il turismo no gastronomico, senza la tutela del patrimonio agroalimentare, è no gastronomico, non va da nessuna parte. Perché noi ogni volta che tuteliamo un prodotto, l'arancia di Libera, quello che noi vogliamo, il peperone crusto, diamo continuità a tanta secoli di storia in continua trasformazione. Quindi, ragazzi, non possiamo banalizzare il mangiare. Poi, in questo momento, io sono anche editore, quindi la nostra attività è veramente ampia, facciamo contenuti, forse il 50-60% del contenuto è tutto in innovazione. Contenuti tailor-made per aziende, questo è il nostro lavoro, progettazione eventi. Quindi, questo tuo invito mi ha dato due o tre settimane di riflessione su questo aspetto. Sull'aspetto metaverso, bisogna entrarci. Il gusto è quello che ci siamo detto, la tutela del patrimonio è quello, ma proviamo ad immaginare, tu sai che noi lavoriamo per un'azienda del tuo territorio, cioè, il turismo, il tuo comparto, cioè, quello un pochino marginale, pre e post esperienza no gastronomica. Cioè, io voglio andare a Rotonda, o alla Senisa, a mangiare il peperone crusco. Prova ad immaginare se ti regalano un peperone crusco e te lo porto a casa, e tu devi andare ancora a cercare i dati in giro per capire cos'è. Io l'ho bevuto un vino, un cirò. Il mio istinto qual è? Sì, lo degusto, ma ho bisogno di informazioni per poterlo gustare, o qualcuno me lo spiega. Quindi, secondo me, il metaverso, questo mondo, che poi può diventare realtà virtuale, aumentate, lo vedremo, ma è la concentrazione e la furibilità di conoscenza all'istante. Quindi io ho un prodotto. Quindi è agevolante. Sì, agevolante. Diciamo, è agevolante nella conoscenza anche quando non siamo su quel territorio. Certo, noi dati, cioè, ti regalano una cosa buona. Io non sono esperto d'arte. Ho qualche pezzo d'arte. Mi regalano un pezzo d'arte. Ok, se io non so, se non scendo a livello culturale a capire l'artista, qualcuno che me lo spiega, per me è soltanto un pezzo d'arte. Cioè, il cibo è tutto quello che ci siamo detto, ma ci porta al turismo gastronomico. Perché se io fruisco di un arancio di ribella, adesso ho il peperone di Sivinise, e ho in un attimo tutte le informazioni, posso anche immergermi in una realtà virtuale, aumentata, fare delle esperienze, NFT, quello che volete, ma mi fa sentire partecipe. Quando arriverò a Ribero in Sicilia, per me sarà un campo già aperto. Poi vediamo, perché secondo me l'espansione del metaverso, oltre il palato, sarà importante, anche nella formazione. Ma c'è un altro aspetto che può diventare commerciale post. Io sono stato a fare un viaggio, non lo so, in Spagna, a Hawaii, a Rotonda. Torno a casa, e noi le emozioni le colleghiamo anche al cibo, alle esperienze vissute. Quindi, potermi immergere di nuovo a Ribera, mentre degusto un'arancia, è un valore aggiunto anche commerciale. Cioè, secondo me noi abbiamo il valore del territorio, patrimonio agroalimentare, il valore del cuoco, ma non è solo cuoco, con i cuochi soltanto non si arriva a Dama, poi lo toccheremo questo argomento, e questo pre e post, la fruibilità della cultura, che poi può essere evanescente, ma io riesco a dare subito uno sprint. Quindi il metaverso che si lega alla memoria, cioè facciamo un lavoro, diciamo, di solito è relegato alle foto, quindi in questo caso torniamo nei luoghi che casomai sono diventati i nostri luoghi del cuore, e possiamo rivivere... Il cibo, per quasi tutti noi, a mezzo che non è nutrimento, quindi un calcolo calorico, un calcolo di nutrienti, il cibo passa sempre attraverso le emozioni, che poi ognuno di noi ha un livello, però man mano che si cresce, che cresce la cultura, che cresce la conoscenza, cambia anche il valore del cibo. Il cibo è importante, noi siamo sempre legati ad emozioni. Guardo Sara, è stata da poco a Hawaii, e mi fa una testa con le ananas, con il macadamia, col caffè. Penso se adesso potesse immergersi e arriva il prodotto qua, lo comprerebbe subito, il vino di ananas, come lo... Cioè, questo è il senso, secondo me. Abbiamo un valore, senza pensare che non dobbiamo scandalizzarci, perché il gusto rimane gusto, ma non è detto che possano nascere esperienze anche di realtà aumentata, dove ci sono i sensi, c'è il tatto, c'è l'olfatto, c'è il gusto, si chiama un'esperienza, esperienziale, ma già stanno nascendo che non è oltre i cartoni animati. Secondo me possiamo andare molto avanti. Dico ancora una cosa che potrà essere, secondo me, non bisogna aver paura di sognare. Io immagino di fare un corso reale qua e poterlo replicare in altre parti rapidamente. Diciamo che quello che è avvenuto un po' i tuoi colleghi, alcuni colleghi hanno utilizzato la piattaforma del Metaverso per fare formazione, che poi è anche diciamo ciò che manca probabilmente sicuramente nel settore dell'agroalimentare e nel settore degli chef cuochi, diciamo capiamo un po' questa differenza perché siamo ritornati cuochi e non più chef? Beh, siamo ritornati cuochi perché il cuoco ha in sé l'anima del donarsi. Poi lo chef è anche una mansione come dire manager, executive chef, chef, qualcuno che ha il comando, cioè il comando di un comando tra virgolette perché non avevamo gli imperativi, la direzione è uno chef è i subordinati ma chi trasmette quel talento, la conoscenza, l'esperienza è il cuoco quindi non bisogna aver paura di chiamarsi cuochi cioè adesso tutti siamo diventati chef ma non c'è niente di male che chiamarsi cuochi perché il cuoco approvò l'anima del trasferimento dell'esperienza, della conoscenza e del talento. Qualunque ricetta con gli stessi ingredienti assume un sapore differente da persona a persona perché sono piccoli cambiamenti che fanno la differenza e questo non si potrà mai fare con la mega tecnologia però assolutamente pro metaverso perché mi immagino che da qui a poco riusciremo ad avere una fruibilità di contenuti molto veloce e guardo l'argentati io vivo nel centro agroalimentare di Roma insomma un grande uno dei mercati più grandi d'Europa sono anche testimonia del centro e e ci sono quattrocento imprese dentro che vendono pesce e quindi per me anche io sono all'interno quando vado al mercato eh ho sempre ho sempre nonostante che vivo lì ho sempre il dubbio della tracciabilità del prodotto che mi sta arrivando è uno dei motivi perché i ristoratori non vanno a acquistare in questi grandi mercati è perché non si sentono ancora sicuri quindi questo tipo di discorso porterà lo chef il ristoratore l'imprenditore ad andare sereno al mercato e sapere cosa sta acquistando ok eh vi faccio una domanda invece più legata appunto ai territori marginali anche se eh te la faccio anche a te Federica anche se la diciamo il distretto copre tutta la Sicilia che certo non è un'area marginale però ci sono comunque zone della Sicilia più interne come tutto l'Appennino insomma come tutta la parte diciamo di aree non solo la Basilicata ci sono tante aree interne come la tecnologia e in questo caso il blockchain il metaverso quel che sarà del metaverso possono aiutare questi territori ad emergere vuoi rispondi prima io ho un'esperienza anche diretta perché proprio al centro della Sicilia in un'area sperduta eh ho un'azienda di famiglia dove facciamo ricezione ehm e devo dire che forse ne parlavamo ieri sera quando mi dicono ma cosa c'è da vedere lì niente non c'è niente perché non ci so non è un posto turisticamente valorizzato non è un Luna Park però sta in campagna sta in un posto che indubbiamente è difficile da trovare in altri territori certo tutte queste cose potrebbero essere utili ma dovrebbe esserci una rete wifi una rete internet dovrebbero esserci delle strutture viarie adeguate quindi ecco tutto quello di cui stiamo parlando non può far dimenticare non è che andiamo nel metaverso e ci dimentichiamo della realtà perché nei momenti in cui andiamo nel metaverso magari le strade le possiamo ce le possiamo inventare no? ma ma nella realtà no quindi la valorizzazione delle aree interne passa da tante cose ma passa fondamentalmente e soprattutto secondo me da dalla capacità degli amministratori locali di creare sviluppo e di coinvolgere le imprese che sono lì che fanno una gran fatica perché è chiaro che non stiamo parlando di aziende ubicate a Tormina per capirci ma ubicate in territori completamente diversi si può fare si può fare però diciamo che il metaverso sicuramente arriverà prima a Tormina che è al centro della Sicilia invece tu Fabio con l'esperienza che stai avendo diciamo a Rotonda possiamo dire a Rotonda è un bellissimo per me una scoperta a Rotonda quella parte del Pollino ovviamente si va per gustare la natura l'ambiente le persone le tradizioni e anche quello che è stato ricreato perché è stato fatto un recupero urbano molto molto importante in quell'area certo che la diffusione è il tuo campo la comunicazione quello che noi facciamo è un amplificare la conoscenza e io penso che potrà essere tanto d'aiuto anche questa fruibilità legata al toccare il prodotto portarlo a sé e essere incuriositi dal territorio e questo dovrebbe valere per tutto quel comparto agroalimentare cioè il prodotto che si fa da volano per far scoprire un prodotto per far scoprire un territorio cioè porto l'aglianico porto qualunque prodotto che è collegato ad un territorio dovrebbe essere pian piano una concentrazione di emozioni di far venire il desiderio di andare a visitare quel territorio che poi quando sei sul posto lasciamo stare il metaverso e godiamocelo così com'è però io voglio immaginare che sarà molto utile per far conoscere il prodotto il territorio attraverso i prodotti mi aspetto questo quindi diciamo metaverso in partenza è realtà è territorio da vivere attraverso le esperienze quando ci troviamo sui luoghi e invece dal punto di vista della ristorazione ha un senso hanno iniziato diciamo i tuoi colleghi ad utilizzare le nuove tecnologie nuove queste nuove tecnologie è davanti agli occhi di tutti che si sta segmentando la ristorazione si sta frammentando sempre più vertiamo per questa grande divisione cioè la ristorazione tra virgolette di qualità che non è solo quella delle stelle Michelin perché un professionista è anche un ristorante casareccio può fare la differenza cioè il segmento della qualità è un segmento da tutelare come i prodotti perché se noi continuiamo così quel tipo di ristorazione oltre le stelle Michelin non ce la farà a sostenere la concorrenza dei grandi gruppi nazionali internazionali che vanno come treni con format con che non c'è più il prodotto stesso e la tradizione al centro c'è il commercio puro del food quindi un altro step che noi dobbiamo fare non pensare soltanto alle stelle Michelin ma tutelare tutti quelli che fanno bene e passano tutte le emozioni attraverso il cibo quindi la segmentazione è già avvenuta noi dobbiamo adesso tutelare scusate ma quelli che non ce la non ce la fanno e questo passa attraverso la cultura passa per forza attraverso la cultura perché se noi non apprezziamo per me l'enogastronomia è vita mangio un formaggio qualsiasi mangio un salume qualsiasi ma prima di mangiarlo ci penso perché mangio un olio qualsiasi ma per me non esistono l'olio esistono gli oli esistono gli agrumi esistono anche i sali ogni alimento che prendo ha una marea di sfaccettature sono legate a tante non solo alla speculazione commerciale non solo alla speculazione commerciale ma noi dobbiamo difenderci ma non per un fatto di Italia sovranità perché secondo me in ogni parte d'Europa in ogni parte del mondo c'è da tutelare un patrimonio per evitare l'olio della Croazia non è peggiore del nostro ci sarà migliore e peggiore così quello spagnolo così il formaggio ma dobbiamo tutelare questo micro aree per evitare lo strabordare industriale l'industria c'è bisogno perché l'industria ci garantisce tecnologia ci garantisce l'industria ci garantisce una filiera controllata con pro e contro ma tutto quello che è il piccolo l'artigiano va mantenuto perché proprio io sono appassionato di formaggi il formaggio per la comunità montane non rappresenta un gusto rappresenta la tutela del territorio la tutela delle tradizioni cioè fa scomparire un piccolo formaggio significa inientare quel territorio quindi l'impegno che dobbiamo prendere noi è non mangiare sempre le stesse cose cioè variare l'alimentazione e non è detto che l'alimentazione è solo costosissima non è solo costosissima si può acquistare anche bene un legume un cereale soltanto che un fagiolo bianco di rotonda lo devi mettere a bagno lo devi mettere in acqua fredda lo devi mettere in terracotta ci devi mettere gli aromi e quelli scatole è già pronto questa è la differenza pensate ok vi faccio l'ultima domanda come immagini gli agrumi di Sicilia del metaverso fra dieci anni cosa succederà secondo te io ritengo che probabilmente quello di cui si parlava può essere il metaverso uno strumento per approfondire la conoscenza perché poi non è detto che tutti conosciamo tutto assolutamente non è così per dire quel prodotto come si chiama però ne crusco io non lo conoscevo eppure sono un agronomo eppure mi occupo di agroalimentare quindi magari un metaverso che mi porta nei posti in Basilicata magari fra dieci anni secondo me la verità è che non possiamo allora se io facevo una riflessione forse banale quando non esisteva il cinema non esisteva prima il cinema quelli che c'erano prima di noi che vivevano in un'epoca in cui non esisteva un cinema non esisteva un video immaginate se avessero detto ebbè ma se vediamo un panorama con un video allora non abbiamo più bisogno di andare a vederlo veramente ma in realtà non è così invece abbiamo fatto per esempio questo video sugli agrumi che ha proprio l'obiettivo di incuriosire e far venire in Sicilia allora probabilmente sarà questa la declinazione che potrà avere questo metaverso meno nell'ambito diciamo del del cibo anche turistico se vuoi il problema del cibo è quello del gusto alla fine come nel video di Matrix se vai a fare un approfondimento e poi però ti dedichi al viaggio oggi abbiamo internet ti vai a leggere tante informazioni domani puoi andare nel metaverso ma i colori i sapori il profumo di zagara o viene in Sicilia o non lo trovi va bene vuoi aggiungere qualcosa Fabio grazie a voi grazie a te dell'invito e grazie a tutti i presenti perfetto grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti